Ballando con le stelle 2023. Novità clamorose. Millie Carlucci cambia tutto? Millie Carlucci pronta a rivoluzionare ballando 2023. Giornalista. Sous-titrage ST' 501 Per avere le risposte a tali domande occorre attendere certo è però che un cambio di giuria sarebbe davvero una novità clamorosa per il longevo show di ballo. Il cantante mascherato 4. La conduttrice ce la sta mettendo tutta per far risalire gli ascolti, svela giornalista. Prima di pensare alla prossima edizione dello show di ballo, la conduttrice è impegnata al massimo in un altro suo show, il cantante mascherato. La sfida nel sabato sera tra Rai 1 e Canale 5 è a colpi di esibizioni. Da una parte quelle di concorrenti mascherati di cui deve essere svelata l'identità e dall'altra quelle di giovani talenti nel canto e nella danza che si esibiscono nella scuola più longeva della tv. Gli ascolti al momento hanno segnato il trionfo di amici di Maria De Filippi anche se Millie Carlucci si difende con le unghie e con i denti. Sempre Alberto Dandolo su oggi. Infatti, svela. Millie Carlucci ce la sta mettendo tutta per far risalire gli ascolti del suo show. Ma non è bastato l'ingresso in giuria di Iva Zanicchi e Christian De Sica per fidelizzare il pubblico del sabato sera di Rai 1. E nel frattempo la bravissima conduttrice ha smentito delle brutte fake news circolate di recente. Selvaggia Lucarelli dirà addio a Ballando con le stelle 2024? Gli ultimi rumors. Selvaggia Lucarelli o Guillermo Mariotto saranno fuori dalla giuria di Ballando con le stelle 2024. In realtà l'ultima edizione dello show di Ballo non è stata proprio quella che si suol dire. Una passeggiata di salute, per la giornalista. Complice il fatto che tra i concorrenti c'era il suo fidanzato e volto noto di è sempre mezzogiorno Lorenzo Biaggiarelli gli scontri con gli altri concorrenti ma soprattutto con la giuria sono stati all'ordine del giorno tanto da presupporre un suo addio nella prossima edizione ma al momento nulla è certo.